E un giorno ti dicono, nelle tue canzoni non dici niente, non ci sono contenuti. Poi quando cerchi di comunicare qualcosa di serio alle persone, ti dicono, non fare politica, fai musica. Ma andate a fanculo. E comunque si capisce perfettamente che in Italia di hip hop non capite niente. Non sapete che cazzo è l'hip hop. State dicendo ai rapper di non esprimere la propria opinione verso la politica. Raga, uscite dalle grotte e scendete dagli alberi. A me piange veramente il cuore vedere ragazzini di 8-9 anni dire Io sono con Salvini! Ma 8-9 anni, cosa ne vuoi sapere di politica? Non hai idee politiche. Voi vedete Salvini come il mito di Facebook, come uno youtuber. E comunque mi erano detto di tutti i colori che sono un comunista con Rolex, che sono un radical chic e che sono un intellettuale sinistroide. Come ti permetti a darmi dell'intellettuale? Poi non capisco perché se dici qualcosa a Salvini automaticamente sei comunista. A parte che comunisti sarete voi facce di merda. Non è che uno deve essere per forza o del Milan o dell'Inter. A uno può far schifo il calcio. Comunque l'unica cosa che posso dire a favore di Salvini è se lui dovesse fare esattamente quello che ha promesso, cioè la pace fiscale, che è una cosa molto importante, sarò il primo a chiedere scusa e a dire anche io sono con Salvini. Poi una cosa che non c'entra niente. Questa storia che sta girando, che mi hanno arrestato, è ovviamente una stronzata e infatti sono a casa. Abbiamo semplicemente fatto delle foto davanti allo studio. I poliziotti ci hanno visto e poi ci hanno dato il permesso. Non ho neanche parlato con loro, quindi...